La soddisfazione è personale ma la vittoria credo che sia la vittoria di un territorio, su questo non ci sono assolutamente dubbi perché da soli non si va assolutamente da nessuna parte e sono riuscito a raggiungere questo risultato di elezioni grazie a uno sforzo complessivo di tutti quanti di questo territorio e soprattutto anche del fatto che questa è una Camera di Commercio particolarmente virtuosa e questo mi ha consentito di andare nei tavoli e poter dire la mia senza nessun tipo di problemi. È Andrea Sereni, presidente della Camera di Commercio di Arezzo, il nuovo vicepresidente nazionale di Union Camere. La partita più importante che andrà a giocare a livello nazionale, a questo punto però targata Arezzo, sarà proprio la riforma del sistema camerale. Ma guardi, noi questo di ieri mattina, questa elezione è stato un importante riconoscimento a questo territorio, al lavoro che abbiamo fatto nel corso di questi due anni anche nei confronti del governo per andare verso un miglioramento della riforma del sistema camerale che ancora non ha, diciamo, ultimato il suo iter. È un momento importante per la nostra città, un riconoscimento, ripeto, sostanziale e fondamentale per un lavoro svolto da una Camera di Commercio che fondamentalmente è una Camera di Commercio estremamente virtuosa tra le più virtuose in Italia. Quindi noi siamo riusciti a far comprendere che non tutte le Camere di Commercio sono uguali, ma che c'è una importante differenzazione all'interno del sistema camerale e che quindi vanno e andranno premiate quelle Camere di Commercio che sono utili al territorio, sono vicine al territorio, sono vicine alle imprese.